Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX, in questo nuovo video continuerò l'avventura di Pokémon Verde e Foglia Allora, continuo a giocare, tempo 12 minuti Allora, riassunto delle imprese di Davide, 4 Oh, che è successo? Ah, Davide è arrivato a Smeraldopoli Poi, Smeraldopoli è il luogo in cui Davide ha ottenuto il pacco di Goak Davide ha lasciato il laboratorio del professor Goak Smeraldopoli è il luogo in cui Davide ha ottenuto pochi TV Percorso 2, è qui che Davide infine ha salvato il gioco Ah, ecco Ora dovrà entrare nel Bosco Smeraldo? Poi, vediamo che dice sta puttana Puttana? Rattata è piccolo, ma il suo morso è terribile Ne ha già preso uno? Ne ha già preso uno? No Pensi di andare a Bosco Smeraldo? Sii prudente È un'autentico labirinto, sì No Un'autentico labirinto Bosco Smeraldo Che cazzo devo andare, no? Andiamo, andiamo Sì, come ho paura di questo puttano? Passo me qua Così non mi vede Ecco, non mi ha visto, infatti Però ho incontrato il Pokémon che si è fatto Pikachu No, fantastico Guarda questo che devo capturare Pikachu, dai, l'icona Azione Ok, questo è vero, io c'ho Paralizzato, no Oddio, non c'ho acqua Oddio, ho sbagliato Super efficace, cambiamo Mettiamo Pidgey Pidgey, nemmeno lo Sono andato al centro Pokémon per Ripararlo, come posso dire No, mo torno subito al centro Pokémon Sì, vabbè, distruggimi tu No No, non posso perdere Pikachu Pikachu, no Pikachu, devi essere mio Usare un altro Pokémon, certo Silver No, Silver Andiamo, dai Facciamoli il culo Pikachu, osservate questo tuo mostro No, non mi distruggere No 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 Silver Esauce Che figura di merda Davide non ha più Pokémon Nute Dove lo trovo più un Picard? Oh, no Nel panico, Davide Pure i soldi perdono Oh, giù Davide fu fuori i combattimenti Pure pure femmine Era col piccio Ehm Addirittura Davide, sembra proprio che tu stai vivendo una cramava un fanculo, andiamo No, dai, ma non si può perdere un picco, così Ho appena sentito che Professor Rock ha detto che Non me ne potte un cazzo Non me ne potte Buona allenatura di sempre Qualche pozione Ma io non dovrei avere Fai attenzione Sì, non rompere Ma io non c'avevo delle pozioni Che schifo dalle nature Che schifo Non lo troverò mai più un Pikachu Andiamo Ora, ritorniamo a Smeraldopoli Eh, però Faccio sempre le stesse errori Che quando sbatto Pidge Non rompere il cazzo Pidge Che già sono incazzato Uffa Dai, azione Suggiamo Io ho Pikachu D'attacchi Dovevo fare E l'avrei distrutto No, invece Faccio schifo Immaginate se fosse stato un Pikachu Shiny Sarebbe stato Proprio Una brutta fine Perché non avrei finito Non ho cominciato a fare i video Però avrei finito a fare i video Perché proprio Sarei morto Sarei morto Però è radissimo Una cosa del genere Non ho mai incontrato uno Shiny In vita mia Ah sì, uno Shiny l'avevo incontrato Non sbaglio Zubat l'avevo incontrato Era Pokémon Cristallo Se non sbaglio Avevo incontrato un Zubat Shiny Poi l'ho perso Però L'ho lasciata curare Vabbè, questa è un'altra storia Oh, ma sempre Pidge Vai, Silver Dai E' luce Eh Fanno bene Allora gli altri A saltare tutte ste Scene di lotta Di andare a velocità Di andare a velocità Di persone Perché non si può proprio Figgi Figgi Selvatico C'è un bot D'azione Ok Figgi Selvatico E salt Silver Riceve 23 punti Andiamo Andiamo subito a riparare i Pokémon A riparare i Pokémon Per giunta Non far guadire i Pokémon Ora Nessuno Mi fermerà più Nemmeno Pikachu E' il botto Smeraldo Perché ora devo catturare un Pokémon Andiamo Eccolo, vai Caterpie Ah E faccio la Prova a completare il Pokédex Catturo Caterpie Per giunta maschi Il beso Selvatico Vai Selvatico Scusa mille bar Scusa mille bar Scusa mille bar Cioè mi sono andato oggi di morale Ho perso filo Ci dà Mi sono fatto scappare con un po' gli Sono morto Mi una silver No Lino Menti Ma qua città Pokébon Ora quattro Pokébon Allora Davide usa Pokébon Li diamo Ce l'ho fatta Sì Preso Caterpie e catturato I dati di Caterpie sono stati inseriti nel Pokédex E sui zampe cortissimi Sono ricoperti da venturi che li permettono di scalare qualsiasi minuoso Vuoi dare un soprannuma a Caterpie no? Purtroppo devo tornare a riparare i Pokémon Perciò spengo il video così faccio una cosa per lui Ok rieccoci con i Pokémon riparati infatti sono inserbato su Pokémon Possiamo vedere che sono tutti bene Ma saltiamo sta parte Perché dobbiamo avventurarci di nuovo nel Bosco Smeraldo Di nuovo Allora questa volta ce la posso fare Questa volta non mi farò distruggere Non perderò Non perderò Uh Andiamo qua che cazzo scherzo Consigli utili Se non vuoi lottare evita l'erba alta Sì e poi mi escono quelli là che vogliono lottare Quelli che dicono Ah se è navi Quello là Io vado per forza l'erba alta Se non vuoi lottare con me Io non voglio lottare con me Però mi tocca andare nell'erba alta se voglio passare Cioè è tutto una cosa Un trabocchetto Caterpie selvatico Vai Silver Dai Usazione Caterpie selvatico Usazione Silver Usazione Caterpie selvatico Usazione Silver Usazione Caterpie selvatico Usa mille bave Sapevo Sapevo Eh Mi butta tutte ste bave Adolta Velocità di silver Cala Caterpie selvatico Usa mille bave Uh È sempre Mille bave Eh Pure il turno mio Deve essere Vai Non distrutto Caterpie Silver Riuscive 30 punti Esco Perché c'è sto coglione Che vuole lottare con me Ecco qua Uh Che cazzo è Davide Trova Antilegore Ancuno Penso Una pokeball Strumento sistemato Nello scomparto Tascas Strumenti Dello zaino Sì Ce l'ho fatto Tutto un labirinto Sare Scendi No Siamo All'ultimo No Caterpie Lì veloce No No Me ne scappa Non sono un tipo Che fa fuga Ma quando in queste situazioni Mi tocca usare fuga Scampato per il po' Non sono un tipo Ripeto che non sono un tipo Che fa fuga Infatti lo scoprirete Pian piano Che io Combatto sempre Perché non sono un tipo Che scappa Però in queste situazioni Uh Metapod Non so che cazzo farmene Ma lo voglio catturare Giusto per completare il Pokédex Anche se non sono oscuro Però Completerò Tutto Però che cazzo Pikachu Dai ancora Pikachu Dai azione Vai Metapod Selvati Ehi Dipesa di Metapod Selvati Cos'ha Cosa deve fare Silver Azione No Che cazzo Che cazzo Pensavo No Menomale che No Che cazzo E che cazzo Ma sempre alla fine Arriva Non livella No Ah Mostra il coglione Che vuole lottare con me Che dice Ah pure Oddio Cadere No Fugo 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 Perché mo devo stare Contro quell'altro Lì Beh Non voglio per Soprattutto che quello là C'è belino Fuga 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 Scappa Scappa Via Fuggi via Eccolo Ehi aspetta Cos'è questa fretta Eh sì Ecco qua Parte la sfida di semi Pigliamosto È il turno di Widor Mandato in campo Da semi Pigliamosto Livello Nuve Cazzo Questo C'è il belino Widor Eeeh Belino Spino Eeeh Bello Mo'è belino Silver Usazione No Fallisce Dai Una possibilità Vivo Widor usa Mille bave Widor fallisce Vai Usazione Enchiaù Brutto colpo Widor nemico Usa viene Lo spino Tommo mia Velina Tutto Ecco Lo sapevo Dai Silver Usazione Eh sì Ebbene Effetto Silver Non serve a niente Widor nemico Usa viene Lo spino Sì Vabbè Dai Distrutto A me serve Widor Però Per il resto Non serve un cazzo Widor Serve solo Farla evolvere Così Pokémon Cambiamo Dai Prendiamo Cioè Livello 3 Pidge Che cazzo Silver Rocky Rientra Coraggio Caterpie Widor nemico Sua mille Bave Allora Eeeh Velocità Di Caterpie Cala Azione Oh Eda Ma pure a me Il turno Deve essere Che pavolo Fastidio Ma mai una volta Che torna a me No Sempre a lui Widor nemico Usa mille Bave Eeeh Velocità Di Caterpie Cala Caterpie Usazione Widor nemico Usa Vino Spino Caterpie Usazione Ah È morto Widor nemico Esausto Silver Ricevo 49 Punti Espo Silver Sale Livello 7 Caterpie Ricevo 49 Punti Espo È avuto La meglio Su se Mi Pigliamo Mi Arrendo Sei proprio Forte Davide Vincio 108 Che cazzo Sono Blu Bomba No No Comincia Si Si Vede Tutto Storto Mo Perché Sta Morendo Il mio Silver Tutto Avvelenato Dai Devo Arrivare Perché Non c'è Le scarpe Da corso Dai Andiamo Mo Entro dentro Dice che è Sausto Ah no Ce l'ho fatta Si non c'entra Pokemon Mettiamo in sesto Il tuo fuoco Mi fa riposare la tua squadra Si Ok mi prendo la tua squadra Di pokemon Per qualche secondo Minchia che squadrone Squadrone Grazie per la tesola La tua squadra di pokemon Perfetta fuoco Arrivederci Allora Io Per questo video Vi saluto Ricordatevi che se il video Vuoi mettere mi piace Iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto Eccetera eccetera E Che posso dire Ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Ciao